oh ciao a tutti ragazzi oggi video su come si modifica la playstation 1 questo video è fatto solo per puro scopo documentaristico non voglio assolutamente incitare alla pirateria sia chiaro però oggi come oggi sono mille metodi per giocare i giochi playstation 1 che tra poco gireranno anche sul videocitofono immagino però questo è un video per gli appassionati per chi non vuole rinunciare all'utilizzo ancora tutt'oggi della console originale così com'era certo se gli emulatori uno mette il gioco parte tutto però sulla playstation serve la appunto la modifica vi farò vedere a come si programma il chip di il mod chip b come si installa e poi facciamo delle prove cominciamo col dire che questa playstation 1 è stata salvata dalla discarica perché era andato all'isola ecologica a buttare un po di roba con uno con un po di ferro tutto vado a buttare un pc che vecchissimo veramente un fisso che funzionava quasi più niente l'ho proprio già il flop l'ho buttato nel container del della roba elettrica c'era questa non ho resistito me la sono presa è un è funzione è una 7502 prodotta verosimilmente fine anni 90 questa poi c'è un'altra storia un po come dire così a lieto fine anche questo joystick l'ho trovato in una struttura che mi sembra che era per tossici che poi è stata chiusa in una struttura per tossici li ha abbandonato buttato sono entrato perché era completamente rotta la porta insieme c'era uno scatolone un po di mouse e questo l'ho preso non funzionava un cavo l'ho smontato l'ho ripulito e anch'esso ora funziona perfettamente vabbè poi c'è un'altra piccola storia questa memoria sta dietro un armadio per 17 anni ce l'ho buttato io perché non funzionava l'ho ripresa perché stavano spostando un po di roba indovinate un po non funziona ancora quella è proprio una merda guarda una merda della merda quella memory card lì vabbè come dire non può essere sempre tutta lieto fine ora comunque nonostante queste commomenti storie vediamo cosa serve per modificarle questa non è stata modificata la playstation che non è modificata non accetta giochi ovviamente falsi quindi backup né tantomeno copie originali di giochi giapponesi o americani cioè quelli potrebbero andare solo ed esclusivamente sulle playstation americane o giapponesi mo facciamo proprio un video di prova allora mo facciamo la prova con questo che è raiman 2 un backup di raiman 2 e con questo che è una copia originale giapponese di meta slug tra parentesi uscita solo in giappone questo è originalissimo vedremo che non l'accetta nemmeno quello allora cominciamo con la copia di backup io lo so che lo sapete però voglio far vedere anche questo questo tipo fa casino allora il boot c'è perché ci deve sta ovviamente tuttavia non riconoscio un cavolo dopo vi spiegherò anche perché non è modificata quindi ovviamente non va ora proviamo a metterci meta slug giapponese originale guardate un po' eh io ce lo picco e come vedete nemmeno meta slug originale va perché proprio non accetta dischi che non siano pal originali adesso facciamo la prova del 9 con questo rage racer che tra l'altro primo gioco uscito per playstation 1 originale pal però e questo andrà che rumoraccio il disco sta messo male e ora fare il boot lo fa devo sentire il rumore sta messo proprio male eccola fatto vabbè no vabbè quel disco sta in condizioni pessime comunque giusto per far vedere che l'ha preso allora mo che abbiamo visto facciamo una piccolissima lezione teorica vi spiego perché la play funziona in che modo scusate funzionano le protezioni che gli fanno riconoscere un gioco originale da uno falso i giochi quelli originali hanno inciso nel disco una cosa che si chiama pregap sarebbe un codice regionale questo pregap non è assolutamente né copiabile dai masterizzatori né scrivibile quindi tu prendi il gioco è in un'area speciale presente solo nei dischi originali non esistono visti vergine con il pregap altrimenti sarebbe figa la cosa e quindi il mod chip questi qui che non ne programmeremo uno dopo va a dare questo pregap al posto del disco originale questo codice così la play capisce che è un disco originale si pensa che il backup è un disco originale e quindi lo esegue quindi questo non ha proprio un pregap perché è un backup no? quindi la play lo va a vedere vede che non ha questo codice e il processore non so quello che controlla gli dice no tu questo non lo esegui non c'è questo codice non lo eseguire mentre se glielo manda il mod chip gli dice ah è molto stupido la protezione del 90 così e se glielo manda il mod chip gli dice ah ok c'è questo esegui esegui il discorso di questi giochi qui stranieri anche se originali è simile anche se leggermente diverso in pratica hanno un pregap questi ma hanno quello in questo caso me la slag ha quello giapponese quindi come questa può leggere solo giochi PAL non ho mai capito il motivo di questi blocchi regionali dalla play 3 l'hanno tolti poi sulla play 4 potete anche prendere giochi americani e giapponesi vanno tranquillamente comunque ce l'ha il pregap ma ha quello giapponese quindi lei gli arriva un codice diverso da quello che per la quale è programmata lei cioè quelli PAL e dice no questo pregap non è quello che io posso accettare non eseguire il disco è un po' come un biglietto no? come se uno questo è uno che vuole entrare senza biglietto a un concerto questo è uno che vuole entrare con il biglietto di un altro concerto non te lo esegue però se si va a corrompere diciamo il controllore con questo ti esegue tutto ecco la spiegazione di come funzionano le protezioni delle playstation 1 per fare questa modifica c'è bisogno di un pc fisso portatile anche questo trovato nell'immondizia il testa di cazzo mi si era rotto il disco sto stupido lancio un portatile del genere è un portatile da 100 euro però vabbè ci ho rimesso un disco di una play 3 tra l'altro vabbè c'è bisogno di un pc fisso portatile con io garantisco che può funzionare con windows 7 anche se non è più supportato dice che ti entrano gli hacker vai in banca non ti ritrovi un soldo tutte cazzate quelle che vuole far credere la microsoft comunque non garantisco possa funzionare su windows 10 potrebbe è questione di compatibilità dei programmi questo è il è il k150 peak programmer è un programmatore di modchip serve a programmare modchip lo si può trovare su ebay io consiglio ebay l'ho preso da ebay su amazon ma a prezzi esagerati tipo 20 euro questo qui l'ho pagato 7 euro mi pare e anche su aliexpress su sti siti qua insomma sconsiglio ovviamente di comprarlo da amazon dato che vendono cinesate facendolo passare per roba di alta qualità tanto ormai comunque su amazon la gente ci compra anche la carta igienica tra un po' quindi e ascoltatemi una cosa dovete molte guide che stanno su internet incitano all'uso di questa merda qui un lù di pipo già dal nome sarebbe da spaccarlo a metà un giorno lo farò è una basetta che porca troia ho pagato anche questa 7 euro una merda della merda funziona solo con non so windows 98 ma non ce l'ho riuscito a programmare un cazzo con questa è la merda della merda questo programmatore qui non lo comprate molte guide dicono di usare questo no non lo usate è la merda della merda è una cosa realizzata poi artigianalmente quello si vede quindi il k150 peak programmer dei peak cioè dei mod chip vergini sono acquistabili a prezzi umani su aliexpress allora dicevo oltre al k150 ci vogliono anche i mod chip che si chiamano peak nella fattispecie fattispecie ci vogliono dei peak della serie ora vi faccio vedere allora lo dovreste vedere la sigla deve essere 12f508 allora ce ne so tantissime di sigle quello che più veniva usato era l'12c508a io ne avevo comprati una decina che costavano anche poco economici però non si riuscirono a programmare col k150 poi vedendo su internet ho visto che proprio il k150 non riesce proprio a programmare gli 12c508a ci provai anche con l'udipo quella roba la lasciamo perdere poi ci sono anche gli 12c508 ma lasciateli perdere dovete prendere questi che costano un po' di più ma sono sempre acquistabili tramite aliexpress o ebay anche forse su amazon ma lasciate perdere amazon 12f508 non 12f508a la peculiarità di questi sono che non hanno nessun problema essere programmati con il programmatore k150 e che sono anche riscrivibili quindi se fate qualche cavolata nella fase di programmazione si possono andare a riscrivere insomma sono come dei DVD riscrivibili no? CD riscrivibili ok ora che abbiamo visto tutto quanto il materiale ah e naturalmente serve anche vabbè il saldatore e cacciaviti ma lo vediamo dopo questo ok ora che abbiamo visto tutto quello che serve iniziamo a programmare il chip avrete bisogno di scaricare questi file qui che non so se vede i i manuali di installazioni delle varie schede madre in questo caso io ho una SCP 7502 qui ti mette la X perché 0 sta per Giappone 1 America e 2 Europa quindi io ho la 7502 e questo sarà lo schema per quella che dovrò usare ma se voi avete che ne so la questa che cavolo è questa la 1000 ah anche la Pseone pare allora vabbè forse forse ah ecco ma mi sfuggiva questa cosa potrebbe 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 e dovrebbe funzionare anche su Pseone che ha una protezione questa è per la 1000 per esempio la Pseone a differenza della Playstation 1 diciamo Fat ha una protezione in più vi ricordate quando certi giochi andavano proprio a cambiare la licenza per esempio Licensed by Leader 91 dunque chi aveva craccato ci metteva invece Licensed by Sony Computer Entertainment ci metteva quella Licensed by chi l'ha craccato la Pseone Slim a differenza della Fat riesce a capire a bloccare il disco anche da quello se non vede che è Licensed by Sony Computer Entertainment e io vidi all'epoca ho visto su internet che ci voleva un altro X però presumo presumo che questo possa funzionarci anche sulla Pseone sulla Pse1 Mini no scusate la Pse1 Mini è quella che ha lasciato Sony sulla Pse1 Slim anzi non si chiama la Playstation Classic vabbè è una merda allora io questi file ve li metterò in una cartella scaricabile quindi ci sono i diagrammi di installazioni schemi chiamate come volete i file X che sono MM3 Euro io purtroppo non ho un modo di registrare dal computer perché dovrei prendere l'HDPVR troppo complicato collegare il microfono oppure sincronizza l'audio no no cioè quello EUR quello JAP e quello USA noi dovremmo scrivere sul PIC quello EUR perché presumo che tutti abbiate la Playstation 1 europea però se ne so avete quella siete dei giapponerd mettete questo quello JAP cioè se avete una Play giapponese mettete questo di modo che vada a leggere oltre che beccacca i backup anche i giochi PAL quindi vabbè diciamo che normalmente si avrete tutti la Play europea bisogna prendere questo MM3 EUR punto ex io ora lo copio sul desktop no ma cazzo lo devi copiare ma mi devi per il culo CTRL più trascina copia oh ecco ma che cavolo lo metto lì perché così e poi il file del K150 che sono file uno contiene il software per la scrittura dei dei pick e un altro sono i driver di installazione questo io ora non andrò a installare i driver perché comunque già li ho installati però voi dovrete eseguire questo come amministratore forse è meglio l'ho fatto come amministratore non mi ha dato nessun problema ma anche senza non dovrebbe essere un problema collego il K150 al PC se è la prima volta vi dice dispositivo USB non riconosciuto driver non trovati è normale voi lo installate poi lo scollegate ricollegate e ve lo vede a questo punto dobbiamo prendere il nostro pick uno ok e va messo nella zoccoliera del K150 ma prima devo farvi vedere cosa va fatto oltre vabbè installate i driver e tutto sempre questa cartella K150 c'è D-Pack qua non toccate niente bisogna seguire questo software MicroBRN sarà Microburn ok ok una volta avviato questo software bisogna fare una cosetta qui vi dice ready ma non è ready bisogna vedere a che porta lo ha messo Windows perché questo va a emulare le porte com vi ricorderete le porte com non lo so quella roba all'accello di pipo di merda bisogna andare computer proprietà gestione dispositivi porte com Lpt ed ecco qua ha assegnato il K150 alla porta 5 quindi bisogna andare sul vedete lì è a rando a me la segnala la porta 5 potrebbe segnalare la 2 la 8 e andare su port ecco qui c'è stata la 9 bisogna mettere la 5 ok perché se no vi dice ecco ora vi dice K150 board connected se no vi dice c'è qualche problema ad accedere alla porta com una cosa del genere ripeto non garantisco che funzioni per Windows 10 se non l'ho già detto non posso garantire che funzioni con Windows 10 questo programma è il K150 Windows 3 andate sul sicuro anche con XP adesso io vado a connettere il pick ah no aspetta prima cosa bisogna scegliere dalla chip selector il pick che desideriamo scrivere perché ognuno deve essere scelto qui se voi ne piate uno deve corrispondere a quello che si vuole diciamo masterizzare bruciare questo è 12F508 allora nella lista non c'è 12F508 però mi sono ricordato che bisogna mettere 12C508 e non 12C508A è un po' complicato però anche se qui dice 12F508A bisogna mettere 12C508 e metterlo secondo come dice il K150 quindi va messo non da sopra ma da sotto vedete qua vi dice ah è la luna la lunetta ora la faccio vedere c'è questa vedete la lunetta c'è questa lunetta in alto a sinistra che indica il pin numero 1 quel pin indica il pin numero 1 semplice ok quindi vedete anche qui c'è il puntino va messo così faccio vedere e poi io vado ad una stretta bello saldo ok ora che abbiamo messo il chip lì dove dice bisogna fare una cosa leggerlo read e da tutti F vi deve dare tutti F perché guardate se io vado a toglierlo e faccio read cioè non c'è niente da tutti i zeri se da tutti i zeri vuol dire che non l'ha letto se da tutti F vuol dire che l'ha letto ma è praticamente vuoto quindi non c'è niente non ci sono dati quindi da tutte F allora andiamo a rifarlo dovrebbe da tutte F tranne che alla fine questo valore è qui C2A questo è il valore di oscillazione oscal value si chiama e praticamente è un valore univoco cioè ogni pic ne ha uno diverso quindi questo ne avrà un altro questo ne avrà un altro ancora quindi bisogna appuntarsi questo coso qui tramite che ne so l'ha appuntato a carta oppure fate una foto oppure stiamo su PC blocco note com'era C2A ok salva desktop e salva e dai mannaggia il diavolo ok e ce lo siamo appuntato questo è importante il valore di oscillazione ricordatevelo adesso bisogna andare su program no scusatemi su load cioè andremo a caricare il file ex che vogliamo mettere sul pic questo ok e ora vedete questo questo è il file questo è quello che andremo a scrivere sul pic bisogna fare una piccola cosa prima di andarlo a scrivere calib che va bisogna inserire il valore di oscillazione allora ti dice è in formato 0C currented vuoi cambiare bisogna dare sì quindi da 0C e il valore che era 2A non bisogna scrivere qui in altra C ma semplicemente 2A scusate 2A cos'era? 2A ok ah sì ok a questo punto una volta inserito il valore di oscillazione nel nell'ex che abbiamo caricato possiamo andare su program diamogli sì questa linea avanza per farci capire che ah ho ricevuto un errore allora tutto a posto mi sono ricordato avevi visto anche il video di uno che faceva la modifica della Play 1 che diceva che l'errore te lo dà ma in realtà lo va a scrivere ugualmente ti dà errore ma lo scrive perché se uno va a fare il read cioè leggi il pick gli diamo no e vediamo che ha scritto tutto quanto perché non dà più tutti i F ma dà tutto quello che i valori insomma con il valore l'oscillazione quindi ok ho programmato il pick si spera con successo non mi ricordavo nemmeno che l'altra volta mi aveva dato errore adesso possiamo passare la parte di saldatura del pick sì bene andiamo bene ok adesso si può passare all'installazione vera e propria l'ho smontata non posso stare pur a far vedere come si smonta perché se no non si sapeva smontare non si sapeva che installa questo c'è un altro video dove faccio vedere se si smonta quello dove la riparo che non riconosceva il joystick andate a vedere quello se vi interessa allora come lo stiamo a notare questa purtroppo ha uno shield sarebbe la parte questa qua sopra che farebbe la dissipatore di calore ma secondo me ci hanno messo anche per evitare l'installazione del modchip si leva tranquillamente allora vi faccio vedere l'altro materiale necessario per ultimare la modifica cavo filo avg30 questo è lato per fare la modifica della play 3 col tensi ma mo che la play 3 si modifica tramite un plugin tramite internet non mi serve più farla diciamo manualmente saldatore e il pick già programmato il saldatore si serve l'aria calda no stavolta anche se io adesso andrò ad operare per togliere questo shield che si leva facilmente di saldando le varie piazzole dove è ancorato alla scheda adesso io per farlo uso l'aria calda però prima ho fatto una prova tecnica io uso l'aria calda ma si leva tranquillamente con il saldatore io ora ci vado a rimettere temporaneamente delle viti per evitare e ora io ci andrò col cacciavita a fa pressione facendo pressione così andrò a staccarle però ci vogliono le viti perché così la scheda non messe ne viene anche lei non è il cacciavite però non è la punta adatta comunque ok allora va bene vado a disaldare lo shield pochi gradi quanto sta impostata questa vediamo un po' a più vabbè serve i cacciavita con le varie punte e vabbè dopo ve lo dico 160 gradi non bastano vediamo gli 200 stagno fondato 300 gradi stagno fondato non metto non metto il capton perché non credo quello che non serva giusto sulle basi dello shield ecco si tira leggermente in su aspetta qualche secondo che lo stagno si risolidifica si può fare anche col saldatore però io ripeto uso l'aria per far prima vabbè dai mo lo levo allora ok ho tolto lo shield eccolo se io non lo rimetto nemmeno non serve un nemerito per me può starsi ma per me può venire l'immondizio però adesso bisogna vedere lo schema e capire dove si va a installare il pick innanzitutto bisogna trovargli una posizione e qui già potrebbero sorgere dei problemini perché questa è una 7500 la per esempio 9002 è fatta un pochino meglio per installare il mod chip ha qui la 9002 un cippone non so che esce quasi fuori e lì ci si potrebbe poggiare però qui non c'è io vorrei evitare di metterlo qui perché dopo va a finire che uno se la deve aprire si riporta tutto il chip allora ho pensato ho pensato ora vediamo se è fattibile di metterlo qui vedete c'è questo quadrato qui che è uno dei piedini che uno dei suoi piedini mettendola qui mettendolo qui è preciso però resta il fatto che io ho già fatto le prove tecniche dovrebbe passare attraverso questo filo mo con calma vediamo l'unica cosa l'ho detto del filo a VG30 l'unica cosa che consiglio è di adoperare fili più spessi questo sarà VG24 per l'alimentazione e per la massa adesso dobbiamo vedere lo schema e lo scrivete naturalmente sul pc questa è una 7500 più 22 è vaffanculo più vedete dice 7500 più 22 questa è una più 22 dove sta scritto da qualche parte sta scritto ecco più 22 ti dà il coso di scadamare e purtroppo queste immagini risalgono agli anni 90 quindi adesso qui non vedrete un cavolo ve la metto io in tramite editing ve la metto in sovrimpressione e io da qui sono a bassa qualità purtroppo ti dice di metterlo in quella posizione lì sopra il connettore ma io non ce lo metto io lo metto lì dove l'ho detto io dovremo prendere dovremo saldare in tutti quei punti che vedete e la cosa si preannuncia oddio facile penso facile per me ma riprendere e saldarlo insomma è una cosa un po' complicata allora un'altra cosetta il pick a forza si aprono le sue alette i suoi pin e a sto punto io lo vado a tagliare con questa ah per spellare i fili userò questa non è i fili AVG30 non si spellano con una classica spellafili elettricista cioè questi AVG24 si nemmeno non si sta regolata male vabbè questi si ma i fili AVG30 che tra l'altro sono reperibili solo su internet perché non credo riuscireste a trovarli mai da qualche parte nemmeno staccandoli da un pc non ci si trovano questo qui va tolto vedete qui si tende tutto a storcere purtroppo è fatto apposta per essere tagliato io ora li vado a tagliare con questa caution perché mi complico la vita perché a me piace complicarmi la vita pur forbici di elettricista e vaffanculo ok ok eccolo qua adesso io dopo ce lo attaccherò con la colla a caldo qui prima però dobbiamo fare tutti i vari cablaggi bisogna attaccarci saldarci otto filetti lunghi allora procedo bisogna usare una punta sottile non serve una stazione ad aria combinata con il saldatore qui serve un saldatorino così anche quelli da 10 euro teoricamente dovrebbero andare bene e vado adesso a saldare la parte il filo cioè attacchi il filo questo allora la lunetta questo è il pin 1 e vado a saldare troppo lungo il filo troppo lungo già si vede a saldare il pin questo è dell'alimentazione che va data anche in alto sta con lo schema ci sono fili che si rompono come niente quindi questo ho usato la VG24 perché ripeto per l'alimentazione della massa userei dei fili un po' più spessi perché va a finire che dopo magari non viene correttamente alimentato e sono cazzi amari ok allora ristagniamo l'otto qui c'è la lunetta qui dove ho installato la fase cioè si scioglie come niente questo forse è veramente troppo erto questo filo non è l'ideale però vabbè chi se ne frega ho difficoltà a saldarlo non è l'ideale no no troppo spesso ok questo questo va meglio è sempre nero ma è più sottile ora occhio magari non ve ne accorgete è stato preso da un cavo lan mi sembra o da una porta seriale delle stampanti quelle vecchie spellato coi denti altro che spellafili coi denti questo si dovrebbe io però dovrei adoperare una morsetta qualcosina per tenere fermo il pic dopo forse ci va passato anche il tester per assicurarsi che non sia in corto qualcosa bisogna ecco evitare c'è un filetto che non si è saldato e crea corto dopo ma va bene ok solo per l'alimentazione fili un po' più spessi che potete anche spellare lo ripeto da un cavo lan rotto da una porta da stampanti poi ho due tipi di filo a VG30 questo autospellante verde che non serve nemmeno a romperlo perché appena ci passa il saldatore lui si spella da solo o questo qui che è un po' più rigido e va spellato questi sono stati già usati diverse volte dovrò fare una lunghezza più o meno simile per tutti tanto non è che ci sia questo diamo la metà sta niente cazzo sta ah scusatemi un attimo non ho detto una cosa ci sono modifiche a tre fili e modifiche a sei fili ah non ho detto una cosa se me lo ricordo solo adesso ci sono modifiche a tre fili che potete vedere facilmente smontandole da una vecchia play 1 e modifiche come questa a otto fili questo è un mod chip stealth ci sono giochi tipo medieval crash team racing crash bash che se notano la presenza del mod chip si bloccano medieval per esempio dava un disco che non si riesce a leggere mi sembra era l'errore che si inventavano mentre in america in giappone mettevano proprio una scritta in inglese software terminated ti dice in poche parole hai modificato la console non puoi usare questo gioco rivolgiti all'assistenza per togliere la modifica e prenderti una denuncia questo mod chip bypassa queste protezioni perché lui una volta avviato che ha avviato il gioco e vede che ha avviato il gioco si spegne quindi la play non riesce a vederlo però una volta che ha fatto il controllo non te lo fa due volte per l'avvio dei giochi dopo te lo cominci a fare magari per i blocchi questi tipi di protezioni però è anche vero che esistevano le crack quindi se uno la modifica a tre fili fa la crack e si bypassa ugualmente però questo è un modo che si fa per per evitare insomma la questi tipi di blocchi in modo chip stealth dai adesso saldo tutti gli otto fili e poi lo mettiamo sulla scheda ok ok mi manca un filo solo questo e non è manco facile tanto da la salda quella delle camera poi non ve lo dico bisogna prima sciogliere sopra ai piedini un po' di stagno poi si passa direttamente con ci si poggia il filo sopra ma lo faccio vedere e si va a a saldarlo vabbè questi si intrecciano tra di loro io ho la telecamera in mezzo alle scatole difficilmente ci riesco fili destra fili a sinistra fili corti fili lunghi perché mi fa così almeno qua lo posso tenere all'estremità allora attaccati difficilità ok non l'ho saldato benissimo però vabbè regge questo è il pin più importante il pin 6 quello che va a dare proprio il codice per per la il codice di pregap e il resto tutti per lo stealth tranne questi qua sopra che vanno a dare l'alimentazione vabbè mo lo risaldo un po' meglio e poi vediamo come si fa comunque bisogna saldarli sopra sopra il piedino con il filetto che sta sopra il piedino io però purtroppo ho fatto la telecamera non ci riesco bene io mo ho fatto passare i fili qui con un pochino di colla a caldo vado a sigillare a far tenere fermo il mo chip si fa una leggera pressione sopra però io qua lo vedo male forse non è stata un'idea ottima perché qua ci si dovrebbe in teoria rimettere un filo quindi adesso io devo sigillare anche questi devo incollare in qualche modo anche questi sì allora il chip è fermo anche questi filetti però vanno fatti lo vattene qua sotto vanno fatti vanno un po' diciamo anche non vorrei che la colla li brucia però cioè li brucia li spella ma non credo mi fascina non è fattibile questo qua non ci deve stare perché io lo metto qui che è la posizione più comoda perché non mi va di lavorare con quella con quella placca cioè è più diciamo fattibile con le modifiche a tre fili era facile con una modifica a otto fili andare lì con quella placca del cazzo fa passare i fili da una parte e da un'altra è un po' una rottura io però sono dell'idea non l'ho mai provato che se voi saldate il filo uno otto e sei funziona lo stesso in maniera non stealth purtroppo gli X a tre fili non si trovano e non ho idea se dumpando un mod chip ammesso li troviate non avete ricordato prima quando ho tagliato i piedini ammesso li trovate senza i piedini non so se dumpandolo con quel K150 si riesce a avere l'X a tre fili ok ora sono fermi il mod chip è fermo qui ci va rimessa la vite ora io dovrò semplicemente andare a saldare il tutto nei punti indicati dallo schema che vabbè metto metto qua sopra se non così allora saldatore lo spendo vabbè ancora a caldo e devo saldare la massa la massa che la saldo qui dove stavano gli shield non me ne fotte un cazzo non me ne fotte un ne merito cazzo anche questa è una massa dice di saldarlo qua guarda come mi sono ridotto ho due puntali neri si saldò lì mi piace di più vabbè questo che ci sta è finito credo che c'era ok ascoltatemi dice di saldarlo qua ma è una questione di semplicità io la salda qua la massa la potete saldare anche sullo shield solo questa eccezione questa finezza si può fare solo con la massa perché chi non capisce un cavolo di elettronica io lo spiego io la massa ce ne sta una marea sono parti metalliche la massa quindi quello reggeva lo scudo che era una parte metallica gli altri andranno seguiti scrupolosamente aggiungerei gli altri contatti insomma punti di saldatura siccome le saldature qui non si possono riusare perché sono veramente vecchie è difficilissimo andare lì col saldatore e scioglierla bisogna scioglierci sopra un pochettino un pochettino di stagno pochetto e attenzione che se ne può venire la piazzola non è da escludere questa eventualità del cavolo questo mi sarà utile più tardi ma nemmeno tanto c'è questa eventualità mi è successa quindi bisogna andarci con molta molta cautela quando si fa questa cosa di saldare la piazzola c'è da andare sulla piazzola piano ok si è formata una pallina che non credo le trete da fastidio e ora ci vado a mettere il pin questo qui finito qui che si occuperà dell'alimentazione del mod chip e l'abbiamo messa è in corto con l'altro verifica a occhio senza tester vai no non è in corto con l'altro ok ora il chip è perfetto per essere alimentato ma dobbiamo però andare a saldare tutti gli altri cosi e io per capire dove cazzo quali sono devo usare il tester non ho altre opportunità ok allora abbiamo visto che il secondo pin non andava saldato non mi lo ricordavo ci ho messo un filo molto tagliato ora non seguirò l'ordine da 1 a 8 di saldatura anche perché già ho saldato questo e quest'altro andrò semplicemente a convenienza per esclusione questo so che per certo che è il quarto che come potete vedere nell'immagine va saldato molto qui come vedete nell'immagine è da saldare sopra dove è scritto ccp2 ma guardate quanto è lontano rispetto a dove il mod chip è qui non si vede ccp2 è qui va scritta e va saldato qua tra queste due piccole resistenze che vi farò vedere ora tra queste due va saldato esattamente qui e ora vabbè va a falla però ripeto l'ho già detto massima cautela quando si va col saldatore anzi io terrei pure un po' meno del massimo i gradi perché riportare sempre scioglierci sopra un po' di stagno perché questa è roba saldata più di vent'anni fa e quindi massima cautela dovrei avercene messo un po' ora vado a saldare il filo dunque c'è qualche difficoltà speravo di non dover arrivare a questo ma bisogna operare anche un po' di flussante che è una specie di pasta che serve per diciamo ammorbidire un pochettino lo stagno che sta lì perché quello sta lì da più di ripeto sta lì da una marea di tempo e riportarsi la piazzola è veramente ma veramente facile quindi con un po' di flussante lo si passa sopra in modo da flussante io purtroppo però vado operato si compra costa un po' evitate di comprarlo dalla Cina ma ce lo vuole per forza ok lo riprovo a saldarci sopra un po' di stagno perché non veniva non veniva cioè non è non veniva nel senso che se ne deve andare ecco non aderiva scusatemi il termine è giusto non aderiva cioè non ci si riuscì a posare lo stagno non so se vedete voi ma ora si è formata una pallina sopra prima non si formava e attenzione ripeto è facile portarsi via i piazzoli mi è successo una volta ok questo è saldato mi è successo fortunatamente che era sempre l'installazione di un mochip stealth e se ne è andata una piazzola una piazzola se fate fuori la piazzola numero 6 la modifica non è più fattibile per fortuna quell'altra volta mi era andata un'altra piazzola quindi ho ripreso da un'altra play 1 un mochip a tre fili quindi ho saldato l'alimentazione massa e il 6 su quella dove avevo rotto la piazzola e nell'altra ci ho messo quello stealth non mi ricordavo è stato più di sei mesi fa non mi ricordavo che bisogna usare il flussante ma va usato purtroppo allora il pin 4 lo abbiamo sistemato ora andrei a saldare il 6 che è il più importante che è quello che manda il segnale anche qui flussante sì sì flussante qui ce n'ho poco ma allora prima ce lo metto poi vi dico dove va dove sta allora tra la piazzola numero vedete dalla foto no? non so perché la metto piccola però vabbè ve la potete sempre scaricata dal file che vi metterò vedete sul computer anche se è di bassa qualità ugualmente tra la saldata tra il pin 53 e 52 allora precisamente sotto il 53 un po' a destra va bene molto meglio della playstation 92002 del modello 92002 perché sul 92002 bisognava addirittura saldare su una resistenza su un polo di una resistenza e creava rotture di coglioni perché fai fuori resistenza mentre qui è un pin grazie a dio è una di quelle cose insomma è un puntino però sempre che va prese le massime precauzioni si è attaccato si è creata la pallina la pallina si è creata e ora questo è il filo lo riconosco subito che avevo fatto di un altro colore proprio per riconoscerlo questo ripeto è quello che andrà a mandare il segnale quindi un pre punta fine non adoperate questo è troppo lungo il filo va un po' spellacchiato sembra una cazzata sembra sembra ma poi ci vogliono anche due ore per fare sta cazzo di modifica sembra facile gli altri youtuber tagliano tutto io ci tengo a fare dei vari procedimenti per rendervi proprio conto che non è così facile porco diavolo ci sta sto sto cazzo di chip del cavolo che mi rollo dovevo saldare dopo sto filo io lo sapevo ahia mi sono cotto dal saldatore sempre meglio che prenda la scossa devo ripulire questo 53 eccolo qui ci siamo non mi scappare si è inserito si è ancorato si è saldato eccellente quindi ora abbiamo saldato il pin numero 6 ok allora adesso manca il pin numero 5 3 e 7 poi abbiamo fatto la mod ora devo ricaparmi quali sono con il tester però ripeto se non avete il tester ve lo dovreste andare a occhio un po' vedete questo qual è questo lo metto qua non è necessario il tester però può venire utile per ritrovare i fili se volete fare l'installazione come la mia che lo mettete qua metterlo sopra significa lavorare con la cosa con la placca dopo rompere palle un bel po' le palle diciamo guarda questo è il pin numero 2 non è il 3 non è il 4 l'abbiamo messo questo l'abbiamo messo adesso uno e sti 2 ho aspettato poco sta sulla placca stanno spiando il tester ok questo è il numero 7 questo qui è il numero 7 che va saldato qua sotto a quel cavolo di chip ma vaffanculo guarda dove la sono andata a mettere però ci dovrebbe essere una grossa c ecco la basetta grossa su quella grossa sotto a quel chip non ci si può sbagliare qui sotto i c304 e si prende e si va anche qui a mettere un po' di flussante che potreste comprare in un negozio certo non trovate il flussante al media world lo trovate in un negozio che vende roba magari per elettricisti non me ne viene ce n'è uno nella mia città ma non vi posso cioè non è che non vi posso il nome se ve lo dico non capite chi cavolo è non so a livello nazionale che ci costa elettro rematarlazzi magari questi qui sicuramente vendono però se no su internet tranquillamente via ok figlio di puttana senza flussante col cazzo che si saldano col cazzo che sti figli di puttana si saldano senza flussante ma non mi ricordo anche qual era il filo vabbè era questo andiamolo a mettere io qui mi sto incarrando ho una marea di roba non vi immaginate quanta roba c'ho addosso le baghette del tester le forbici le madonna pin 7 perfettamente questo ho ancorato a sto punto manca il pin il filo scusate il pin del cosa però manca il filo numero 3 e il filo numero 5 di fatti l'ho avendo tagliato il 2 cioè non qui l'ho tagliato proprio il filo manca filo perché ripeto il pin 2 non si saldava mancano questi due ora devo capire quali sono tester e poi ah no vabbè testo l'ultimo poi vado per esclusione no ma mi capita prima prima quando stavo a registrare ho preso il il saldatore come tester e sono andato a dissaldare ma lo lasciate perdere guarda questo è il 5 dovrebbe essere questo no questo è il 6 questo è il 5 allora il 3 no allora questo è il 4 questo è il 3 e il 5 è questo ok questo è il numero 3 bene eh voi non lo vedete ma io batto per capire ho messo il morsetto è al filo di sopra è al filo di sotto era qui ah si ma ho spento il tester al filo di sotto vedo qual è ricordandovi sempre l'ordine che si parte dall'1 dove sta saldata dove sta al filo dell'alimentazione che deve essere un po' più spesso magari non è che se voi prendete la VG30 non funziona funziona però ho preferito farlo di un altro colore di un coso un po' più spesso perché con l'alimentazione magari questo filetto a livello mi ricordo quando facendo modifiche da Play 3 questi filetti qui davano problemi con l'alimentazione allora questo dovrei metterlo un secondo qua lontano stai lontano da quello ok quello in alto un po' di flussante e va saldato cazzo ma non ho nemmeno il mouse collegato eh uno due tre quattro cinque proprio al terzo sotto dove sta quel testa di cazzo dove sta scritto proprio Game Freak Game Freak che cazzo hai i sbiuspatori dei Pokémon a breve dovrò fare qualche gameplay di Pokémon allora dove sta quel chip ah qui no allora Sony ce ne sta uno Sony e sopra eccolo questo bastardo no è proprio no no il chip 3 ma dove cazzo sta no vaffanculo guarda che roba guarda come cazzo è fatto male è quello Sony CX dove sta Sony CX che cazzo io non ce l'ho quel chip ma che cazzo mi piace per il culo che cazzo di modello è questo allora spiega calma calma ma è questo è questo vaffanculo quella scritta del cazzo già è bassa risoluzione a fianco c'è besta un no sulla destra il connettore con sì con sto cippetto qua vabbè allora devo prendere il pin partendo da destra il terzo uno due e tre un pochino di flussante anche qui sente gel si chiama quello c'è anche quello liquido però secondo me quello gel allora per questi pilavori il gel è meglio per altri pilavori il flussante liquido è un po' meglio ripeto il flussante è un materiale che ammorbidisce lo stagno insomma perché se no non si attacca va a finire che vai lì con la punta e spacchi il connettore dopo una volta rotta la piazzola è finita allora ce ne sta quattro uno due tre devo prendere il terzo aspetta il test e fatemelo togliere così non rompe più le scatole e ho più spazio che voglio farmi vedere la stazione di lavoro guardate qua che cavolo di casino allora era questo porco porco dio porco dio porco dio porco dio porco dio cento volte lo dirò dovrebbe essere questo dovrebbe anche le forbici ancora in mezzo le scatole prendiamo il saldatore e andiamo a saldare sul terzo contatto non ce l'ho sciolto lo stagno poco poco creato corti no occhio no vediamo dopo meglio troppo lungo ho levato le forbici ma mi riservano subito troppo lungo il peletto del filo scoperto quindi va un pochettino accorciato good e quindi ora posso andare per esclusione quello lì è il pin numero 5 pinno numero 5 che va saldato sotto al questo cosa qua sony cx proprio dosta tutti quei cazzo di cosi però va saldato come da foto cui qui su questo cosa qua ci arriva la luce su questo qui ho saldato adesso è abbastanza facile questa non è molto vicina a me poco poco flussante anche troppo un po' rimarrà lì chi se ne frega ok ripeto il flussante va usato senza rischiate solo di fa casino potete avere pure i saldatori buoni ma senza senza purtroppo si fa casino non volevo arrivare a usare il flussante non l'ho usato manco nel video dove riparavo la play 3 ma i cattinanti non si creano vedete quelle belle palline pronte per essere saldate no no lì proprio rischi di portare prima prima col pin 4 ci è mancato poco infatti non so se ci avete notato ci ho fatto un piccolo taglio perché l'ho dovuto ripulire mi era venuto un colpo che avessi fatto l'epic file ottimo lavoro più o meno guarda che schifo si poteva scegliere un modo di installazione un po' migliore con meno casino comunque ho finito l'installazione adesso io fate un po' vedere se aderisce perfettamente con la quest dai se aderisce perfettamente io procedo al rimontaggio e al test finale dunque basta che qua non tagliano i fili non li taglia sono un po' prestati ma chi se ne frega sembra che tutto vada bene perché il mochip si è messo sulla scheda io ho messo qui per un motivo se è messo sulla scheda sotto non ti fa rimettere bene questa se è messo qua sopra è un casino perché l'ho detto deve stare la fa lungo forse però è meglio il consiglio forse ho sbagliato a fare questa cosa dovete farlo lungo in modo che esce fuori poi lo mettete qua con un po' di colla a caldo qui tanto qui ci va il coperchio basta ne lo mettete qua quando si vede lo mettete qua forse ho usato un po' troppo diciamo ho usato un metodo un po' troppo per uno che lo sa fare piuttosto che un metodo adatto a tutto però vabbè dai potete evitare di usare il tester potete andare ad occhio va o male questo mi ora mi crea qualche problema perché lo devo far passare qua sapete perché perché mi copre il connettore un po' lungo sto filo vabbè va bene ma se qua dentro ci entri devo alzare un po' ecco 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 statti qua adesso ci passo un po' di colla a caldo e va a fangulo ok perfetto no perché se no non ti fa questo e questo ti vanno sul connettore creano casini dai mo la rimonto e vediamo se funziona allora ok la play funziona l'ho già testata io e non è quella che non è che ne ho presa un'altra modificata io ce n'ho un'altra eccola questa è una 9200 dopo di questa vi trovo di una piccola cosa e questa è quella che ho modificato io vi faccio vedere che funziona adesso prendo Rugrats prima avevo preso Ryman dopo vi spiego perché ora vi faccio vedere backup backup viene accettato perfetto è partito c'era stato quel piccolo problemino prima l'avevo provata c'era stato quel piccolo problemino lì che avevo saldato male i fili no? avevo invertiti ok dopo vi devo dire anche una cosa sui dischi ora questo è un bel pc che dovrei da montare qua dentro che cavolo c'ho Windows 7 32 bit no beh nu proviamo Meta Slug che abbiamo visto che non partiva e vediamo un po' aspetta anche Meta Slug è andato dice le chance advice c'è dovrebbe essere CSC e J normalmente però vabbè chi se ne frega anche i dischi originali giapponesi americani vanno questo vabbè M da Slug non lo sto off provatevi un po' una volta se avete metto una Slug la Play 1 provatela a mettere sulla Play 3 vedete che succede la seconda missione vabbè ok abbiamo visto che funziona la modifica è andata a buon fine ora però vi devo dire una cosa sui dischi e una cosa sul Play 9001 prima vi dico quella da Play 9001 poi dei dischi consiglio per quanto riguarda i dischi da adoperare per la per l'uso sulla Playstation 1 modificata questi dischi qui Maxwell come si chiama il giocatore dell'Inter sono la merda la merda sono più economici che ci sono oggi sul mercato e anche io l'ho comprati come un coglione questi vengono tranquillamente letti la Play 2 ma la Play 1 che ha un lettore cd veramente non è che è scarso non è scarso per l'epoca però è una cosa molto primordiale rispetto a quello della Play 2 non ce la fa la Play 3 se lo mangia vabbè è normale quindi io vi consiglio di adoperare dischi vergine a fondo nero esattamente come il fondo che hanno i giochi Playstation 1 non originali questi si trovano in commercio vergine naturalmente dovete ordinare su internet non li troverete più in giro e costano anche un disco nero vergine di buona fattura costa anche 80 centesimi allora quindi questo non parte perché purtroppo il cd è di una qualità veramente scadente mentre questo della Pringo ve la ricordate la Pringo parte perché comunque è un cd di ottima qualità masterizzato negli anni 90 allora le accortezze da prendere sono oltre il disco a fondo nero o fondo blu come quelli della Play 2 allora il fondo nero serve a uno speciale materiale riflettente che con la Playstation 1 funziona benissimo il fondo nero sono quelli che la Play 1 diciamo digerisce gli piacciono di più questo non ha il fondo nero però è un cd di qualità ottima rispetto a questo che è una merda prodotta in Cina non si sa come questo una volta sola mi è partita poi ha fatto solo il logo poi cioè si perde poi le accortezze sono comprare cd di qualità se proprio devi prendere uno a fondo così normale argento converrebbe prendere o un sony o un verbatim ma io sui verbatim non ci farei molto affidamento e masterizzarli con un lettore dvd aspettiamo faccio vedere masterizzarli con un lettore dvd a massimo 4x questi qui grigi questi grigi che hanno la porta pata ide come cavolo lo chiamano ce la fanno a 4x mentre quelli nuovi neri tra l'altro sono la merda della merda che appena masterizzano un cd si bruciano quelli che si comprano su internet a 15 euro non ce la fanno e poi hanno una velocità minima di 16x mi sembra la play 1 fa molta difficoltà a leggere i dischi masterizzati veloci quindi bisogna sempre masterizzare a una velocità più bassa possibile a 1x non ce la farete a meno che non lo procurate questo è un masterizzatore a 1x ma funziona solo su questo pc qui che ha windows 98 ve ne faccio vedere un altro a 1x ecco questo qui della yamaha questo ho trovato in giro ma è veramente una cosa incredibile guarda quando è stato prodotto ottobre 1999 facevo la seconda elementare o la terza non mi ricordo e questi qui che supportano l'1x hanno sempre 60 pin e ci vuole un adattatore quindi allora l'1x è una cosa un po' esagerata secondo me io non ho masterizzati a 1x ma però erano sempre questi e venivano letti sì un po' meglio ma con difficoltà sempre perché erano una merda ho rischiato di bruciare il masterizzatore mentre con questi qui grigi vecchi che comunque il 4x ce l'hanno anche il 4x dovreste andare sul sicuro ultima accortezza quando su internet trovate delle immagini diffidate sempre da quelle che hanno poco peso ora vi faccio vedere una cosa allora una volta gli hard disk erano una merda del genere cioè vi rendete conto quanto ha 20 giga e questo è prodotto nel 2002 ora ce l'avevo anche da 4 giga ma non so che fine ha fatto c'erano negli anni 90 va sicuro hard disk da 4 giga ma anche da 2 l'ho visti cioè quindi che succede perché ora hai preso il discorso degli hard disk lo dico su internet è molto facile trovare immagini di giochi compresse significa che qualcuno ha preso l'immagine del gioco che pesa in media 500 mega e l'ha fatta diventare di 60 mega per esempio Ryman che l'ho fatto io la copia pesa 599 mega su internet l'ho trovata a 50 mega Tekken 3 a 40 mega quando ne pesa 380 e tutto tanti giochi ho trovato in peso ridotto questo perché gli hard disk di una volta non avete visto avevano una capienza ridicola purtroppo non sono mai state aggiornate le immagini quindi il consiglio mio è o non ne so farsi il backup dal gioco originale si ma se uno lo vuole masterizzare non so o comunque di fidare da queste cose qui di giochi alleggeriti devono pesare almeno che so giochi come cool award piccoli pesano anche 350 mega medieval metal gear solid crash sono tutti sui 600 mega questo perché i giochi hanno dei file dummy cioè dei file per riempire lo spazio sul disco questi file vanno a favorire la lettura del gioco cioè aiutano la play 1 a velocizzare la lettura andando questi geni a togliere questi file la play 1 fa molta più difficoltà nel leggere i dischi inoltre consiglio sempre di di fidare dai vari formati strani mdf track addirittura c'è il gioco in bin con track 1 2 3 4 5 o iso o bin deve essere o iso o bin tassativamente perché se no avrete una copia che non funziona anche se è masterizzata sul disco a fondo nero quindi le accortezze sono tante e le ripeto assicurarsi che l'immagine abbia un peso buono e di fidare sempre dai 2 in 1 3 in 1 quelli si bloccano si puntano sulla play 1 quella proprio la console play 1 poi come detto usare il cd a fondo nero o di qualità eccelsa di non andare su amazon come me a comprarsi questi schifezze di max vello marche sconosciute e la terza usare un masterizzatore dvd non recente meno recente grigio insomma esteticamente grigio quindi questi qui vecchi che hanno la parallel che quindi hanno il 4x assicuratevi perché anche 8x avrete problemi vabbè se l'avete a 1x sarebbe l'ideale ma dovete avere windows 98 lasciate perdere 4x va bene dai se questo video vi è piaciuto spolliciate una piccola cosa se mi fate una piccola donazione di un euro io vi posso dare io le immagini dei giochi quelli originali che ho e se volete dei pick già belli e pronti 5 euro spedizione compresa sono vostri pronti per essere saldati da voi però è una che posso venire io a casa vostra e ve li saldo io va bene ciao ciao ragazzi grazie a tutti Grazie.